Tutti amici di Marcosbox, sempre benvenuti in questo piccolo video nel quale vi illustrerò uno dei miei recenti acquisti. Ho acquistato su Amazon un bundle con due cavi USB, micro USB, della Anker. Sono dei cavi da 1,8 m che offrono caratteristiche di supporto alla ricarica rapida. Sono molto resistenti, da quel che posso vedere, perché hanno il classico cavo retato che di solito si trova su prodotti di fascia un po' più alta, non quelli dozzinali, che dovrebbe garantire una migliore solidità e robustezza del cavo. Potete vedere quello srotolato. La flessibilità è garantita, però è comunque un po' rigido. Appunto per evitare i piegamenti dei fili interni. I cavi sono rinforzati all'estremità, una e due, e quindi in teoria dovrebbero garantire anche sotto questo punto di vista una maggiore solidità e quindi evitare rotture. Non vi so dire, perché appunto è da poco che ho acquistati, se ci sono dei problemi per quanto riguarda la solidità generale degli agganci, di questo aggancio a questa parte, perché alcuni si lamentavano del fatto che questo tipo di cavi si andasse a sfilare praticamente l'attacco micro USB. Però, sembrano molto solidi, poi questa è tipo metallo, sia da una parte che dall'altra. Questa qui, quindi sembra... L'ingresso sembra molto resistente, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Non riesce a mettere a fuoco. Comunque, nel corso dei prossimi mesi sul blog troverete eventuali segnalazioni se i cavi decideranno di smettere di funzionare all'improvviso, ci saranno rotture, quindi vi terrò aggiornati se è un buon acquisto da fare nel tempo, o se è uno dei classici cavi che al lungo andare può rompersi. Con questo vi saluto, lunga vita e prosperità a tutti quanti, al prossimo video. Ciao ciao!